Abbiamo fatto un documento unitario con le proposte di CGL Cisle Will, è stato un lavoro importante anche perché appunto è unitario, un documento che abbiamo già mandato naturalmente alla Regione ma i nostri interlocutori sono oltre alla Regione le associazioni imprenditoriali, gli stakeholder cosiddetti e l'abbiamo mandato anche alle tre università del Piemonte che tra l'altro ci hanno già risposto i rettori con una disponibilità a discutere. Nelle proposte che ci si possono dividere tre livelli, il primo livello è quello riferito ai fondi europei, quest'anno o meglio nel prossimo settennato 2021-2027 la Regione Piemonte avrà per i meccanismi europei 700 milioni in più rispetto al settennato precedente e parliamo solo dei fondi FESR e FSE, naturalmente non c'entra il fondo che va per conto suo che è quello che riguarda l'agricoltura e c'è tempo fino alla fine dell'anno per fare in modo di presentare dei piani e dei progetti che siano effettivamente che siano coerenti e siano fattibili per non sprecare questi soldi. Poi c'è il pezzo che riguarda il PNRR che però naturalmente deve avere una regia e dovrà essere fatto a livello nazionale, su quello poi vedremo una volta fatto quali saranno i riflessi di progetti che già a livello nazionale avranno delle ricadute anche sulla nostra Regione e eventualmente se si potrà fare delle iniziative informazioni particolari. Su questo vedremo in tempi abbastanza brevi in rapporto con naturalmente la CGL e la CISLEWILZ a livello nazionale. Infine abbiamo inserito nel documento un elenco abbastanza dettagliato di tutte le missioni e le cose che si possono già fare perché sono già finanziate. Quello che noi vorremmo istituendo un vero e proprio comitato di monitoraggio è togliere dal campo tutte quelle inutili polemiche che vengono fatte dagli amministratori regionali e locali su di chi è la colpa per cui i progetti non vanno avanti. Ci siamo un po' stufati di questo rimbalzo di responsabilità. A livello regionale così come a livello nazionale chiediamo che ci siano delle semplificazioni, sulle stazioni appaltanti, assunzioni di personale qualificato e vorremmo che sulle cose già finanziate si potesse verificare nell'immediato la loro ricaduta, la loro fattibilità, le motivazioni perché eventualmente non vanno avanti e naturalmente quali sono poi i risultati che questi hanno. Infine poniamo un problema che per la nostra Regione è fondamentale, parliamo dell'industria manifatturiera che ha un ruolo molto grande nella nostra Regione, molto importante, abbiamo fatto dei passi indietro, abbiamo situazioni variegate perché non tutto il Piemonte è uguale, ci sono specializzazioni importanti che vanno dal tessile che è molto in crisi e che si spera che poi con la fine della pandemia sia uno di quei settori che riesce velocemente a riprendere, ma non lo sappiamo, parliamo dell'impresa invece dell'alimentare che sono molto forti in Regione, specialmente in alcune realtà come quella del Cuneese e con multinazionali piemontesi importanti, multinazionali italiane, la Lavasse a Torino, la Ferrero ad Alba eccetera. Infine c'è il problema dei problemi, mettiamolo così, cioè quello relativo alla specializzazione sull'automotive che ha il Piemonte che è particolarmente naturalmente presente a Torino, su questo ci sono sia da un lato la modifica societaria e quindi la creazione di Stellantis, bisogna capire appunto questa modifica che può essere un'opportunità, se questa opportunità viene colta e riguarderà anche gli stabilimenti di produzione di Torino e tutto il pezzo dell'indotto, che è un pezzo fondamentale molto consistente con parecchie migliaia di occupati nella Regione. Abbiamo cioè la possibilità che le due rivoluzioni, quella verde e quella tecnologica, che comunque ci sarebbero state, siano diciamo in qualche modo, in questo dramma, in questa tragedia del Covid, possono essere addirittura in qualche modo migliorate dalla possibilità di avere dei finanziamenti solo ed esclusivamente se i soldi non vengono sprecati ma vengono spesi bene.